Benvenuti a Cittagoradio, notiziario del Consiglio Comunale di Torino. Buongiorno e benvenuti a Cittagoradio. Nell'edizione di oggi parleremo di Sindone, Mercati Generali, Festival del Cinema Gay e Difensore Civico Regionale. Venerdì 10 aprile, conferenza stampa congiunta a Palazzo Chiablese con l'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia e il Supraintendente ai Beni Artistici Mario Turetta. L'annuncio è quello della rimozione entro fine dell'anno della Sacristia Provisoria che in realtà è dal 99 in Piazza San Giovanni e ospita periodicamente la Sacra Sindone e gli studi sindonologici oltre a una serie di servizi destinati ai visitatori del Duomo e della Sindone stessa. La soddisfazione nelle parole di Cesare Nosiglia. La cosa è andata un po' per le lunghe anche perché i lavori della Cappella di Guarini si sono interonti più volte. Adesso finalmente pare che i lavori siano ripresi con celerità e quindi si spera che sia ripreso alla fine e allora si è pensato di avviare questo rinnovamento. Però in questi anni non si è rimasti fermi nel senso che ci sono stati continui dialoghi e contatti con la stessa che io ringrazio di poter utilizzare il Palazzo Reale e questa scelta però si rivela ancora molto più efficace perché intanto la sindone non deve spostarsi se non di pochi metri possiamo dire e poi dopo tecnologicamente sarà una clean room molto attrezzata. Al CAT, il centro agroalimentare di Torino, non vi è un problema di accessi non autorizzati né di lavoro nero e quanto hanno sostenuto Massimo Buse e Giuliano Manolino, rispettivamente direttore e presidente del centro durante la riunione della Commissione Lavoro. Il problema era stato portato alla luce da un articolo di giornale negli scorsi giorni. Ogni notte da mezzanotte alle 7.30 lavorano da 3.000 a 5.000 persone suddivise tra 100 imprese, 240 produttori, 40 cooperative che si occupano della movimentazione delle merci che sono destinate ai mercati rionali e naturalmente ai clienti. In questo contesto è possibile che vi siano anche accessi di persone non autorizzate disposte a lavorare per pochi euro. Un fenomeno hanno ammesso i dirigenti del CAT conosciuto e gestito e che è riconducibile a non oltre l'1% degli ingressi. Il centro può contare su una vigilanza di 10 persone, ma hanno aggiunto gli stessi operatori vigilano sulla presenza di persone non autorizzate. Le cooperative che utilizzano persone non in regola non possono più esercitare attività al CAT da 7 a 14 giorni e nel 2012, su 7 attività sospese, 3 casi erano dovuti a situazioni di lavoro nero. Festival del cinema gay Siamo in tempi di magra, ma per quest'anno riusciamo ancora a produrre il nostro festival. Sono le parole di Giovanni Minerba, direttore del festival del cinema gay torinese. Dato per defunto a Natale, il festival ha trovato le risorse per sopravvivere riuscendo a allestire un cartellone di qualità con un budget ridotto del 20%. 120 film da 34 nazioni, con i primi film gay prodotti in paesi dove culturalmente le tematiche omosessuali sono ancora distanti da una completa accettazione. Un calendario con un film dal Libano, dal Marocco, dal Pakistan e dalla cattolicissima Polonia. L'appuntamento è al Cinema Massimo, sede dell'intera Rassegna, da venerdì prossimo il 19 aprile fino al 25 aprile. Audizioni in municipio del difensore civico regionale, avvocato Antonio Caputo, che ha tenuto una piccola lezione su che cos'è il difensore civico in Italia, in Europa, nel mondo. Ecco Caputo. Allora, il difensore civico, tanto per capirci, è un ente sconosciuto in Italia, a differenza di altri 140 paesi del mondo, dove è tutelato come istituzione naturale di protezione e difesa dei diritti umani o dei diritti fondamentali. L'ombusman, il difenso del pueblo, nei paesi sudamericani di lingua spagnola, Spagna, il defensor de droit in Francia, da noi si chiama solo difensore civico, che è un termine anche equivoco, per alcuni versi, perché fa intendere a qualcuno che possa essere un avvocato. Ora, io lo sono anche dal punto di vista del passato professionale, ma il difensore civico non è un avvocato, perché intende tutelare e cercare di garantire, attraverso la sua azione, due cose. Il principio di buona amministrazione è istituzione di tutela di diritti fondamentali dei cosiddetti diritti umani. Termina qui Cittago Radio, vi ringraziamo per l'ascolto, hanno collaborato all'edizione di oggi Federico D'Agostino, Silvio Lavalle, Roberto Tartara, direttore Remo Guerra. L'appuntamento è per martedì 16 aprile. L'appuntamento è per l'ascolto,